Non è lui il promotore dell'associazione mafiosa, non è l'anello di congiunzione tra il clan di Barcellona e Catania e le istituzioni. Rosario Pio Cattafi, il grande accusato dell'inchiesta a Gota 3 sulla mafia barcellonese, vede ridimensionata la condanna a suo carico da 12 a 7 anni di reclusione, pur rimanendo confermata la contestazione associativa. La sentenza, emessa ieri dalla Corte d'Appello di Messina, ha escluso dunque per Cattafi l'aggravante di essere il promotore dell'associazione mafiosa e rideterminato la pena a 7 anni, cioè quanto già stabilito in altri giudizi per gli imprenditori accusati di concorso esterno. Il legale, difeso dagli avvocati Salvatore Silvestro e Gian Battista Freni, era stato arrestato nel blitz del luglio 2012 e oggi rinchiuso al carcere duro dopo la condanna in primo grado con rito abbreviato, arrivata nel dicembre 2013. L'accusa, sostenuta dal procuratore generale Salvatore Scaramuzza e dai sostituti della DDA Vito Di Giorgio e Angelo Cavallo, aveva chiesto la conferma della condanna di Cattafi decisa in primo grado senza sconti né attenuanti. Il suo ruolo strategico nell'organizzazione mafiosa barcellonese era stato tratteggiato anche e soprattutto dai collaboratori di giustizia, Carmelo D'Amico e in precedenza Carmelo Bisognano, Santo Gullo e altri pentiti. Tutti avevano confermato come Cattafi fosse non solo il trade union tra la mafia barcellonese e i mandamenti di Cosa Nostra a Palermo e Catania, ma anche il colletto bianco che curava i rapporti con istituzioni e servizi segreti. I giudici della Corte d'Appello hanno rideterminato la pena anche per Agostino Campisi, già condannato a quattro anni e quattro mesi in primo grado, aggiungendo due anni in continuazione con altre sentenze divenute nel frattempo definitive. Conferma integrale delle accuse e delle condanne per gli altri imputati cui sono state affibbiate anche le ulteriori spese processuali. Confermata la condanna sei anni e otto mesi per Tindaro Calabrese e boss De Mazzarroti, sette anni e mezzo per il cassiere del clan Giuseppe Isgro, cinque anni e otto mesi per il boss Giovanni Rao di Castro Reale, quattro anni e otto mesi per il barcellonese Salvatore Carmelo Trifirò. Il verdetto della Corte d'Appello conferma quindi anche i risarcimento per i comuni, parti civili e le associazioni delle vittime della mafia.